we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ci si avvicina piano piano alla settimana numero 3 quella che arriverà ovviamente fra pochi giorni e sarà una settimana molto importante perché dovrebbe quasi certamente arrivare la prima patch quella bella sugosa ufficiale della season 9 abbiamo visto l'aggiornamento 9.01 che ci ha portato ovviamente tutta la ltm di john wick la skin e tante altre cose interessanti ma è proprio con la nuova patch che i cambiamenti e soprattutto gli eventi che accadranno in questa season saranno svelati ovviamente non vedo l'ora di vederli insieme a voi dovrebbe essere martedì o mercoledì nel video di oggi però ragazzi parliamo di un possibile nuovo bundle che è stato trapelato e che si fa un po fatica a capire se è vero oppure no ne parlano davvero in tutto il mondo quindi io ve lo voglio far vedere sembrerebbe una nuova skin disponibile con l'acquisto di una console quindi parliamo di roba super esclusiva ma anche di alcuni trucchetti che è stato pizzicato il signor ninja ad utilizzare in game ovviamente lui sempre in streaming con fortnite vi faccio vedere uno spezzone di video che potrebbe risultarvi molto utile anche per i vostri end game e ovviamente ragazzi abbiamo già delle notizie invece sulla patch 9.10 ufficiali parliamo di un tweet di un post su reddit da parte di epic games quindi voglio già anticiparvi qualche miglioria che il team stesso ci dice prima però voglio ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore per scioppazzare prepotentemente col mio codice mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ragazzi aia ve la devo fare la domandina raga la domanda so che vi piace anche a voi la domandina ve la devo fare ci tengo tanto a leggere i vostri commenti qua sotto e da ragazzi è l'ultima domanda che voglio farvi per chiudere in bellezza john wick e non può che essere ragazzi qual è il tuo john preferito quello che ci hanno dato dal livello 100 della season 3 o quello che è uscito mi piace quello di oggi raga cioè va bene tutto bellissimo quel mietitore è meravigliosa come skin però dai ragazzi guardate che render che ha questo john wick con gli stili personalizzati è proprio chiaro ris nel senso non è che è pinko pallino che porta le pizze quindi a me piace di più quello nuovo anche se apprezzo anche tantissimo il mietitore mi raccomando ragazzi i vostri commenti qua sotto ma quindi ciao ciao le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a farvi finalmente felici tutti voi che siete possessori di un honor 10 posso dirvi che da oggi è di nuovo disponibile la skin honor guard quindi con qualche giorno di anticipo rispetto ai comunicati ufficiali di honor france che avevano detto che sarebbe stata di nuovo disponibile dal 21 maggio è già possibile riscattarla quindi se avete un honor 10 avrete sicuramente un codice che potete inserire nella pagina relativa su internet del vostro cellulare e quindi collegando il vostro account di fortnite riscatterete finalmente la honor guard che per tanti problemi non è stato possibile ottenere per via di codici trapelati e via dicendo quindi mi raccomando ragazzi approfittatene per portarvela a casa ma andiamo avanti e un ultimo un ultimo un'ultima curiosità su john wick ragazzi sulla modalità e su tutto sapete benissimo che insieme alla skin sono arrivate anche le due emot il giubbotto antiproiettili e l'altra emot che dice ci vediamo presto una curiosità ragazzi sull'emote quella che potete utilizzare con il giubbotto antiproiettili se la utilizzate direttamente su john questa è l'immagine prima dell'utilizzo guardate una volta che l'avete utilizzata effettivamente i proiettili che erano presenti e che erano stati fermati non chiedetemi spero da un giubbotto antiproiettili io non ho visto il film scompaiono quindi ve li faccio rivedere nuovamente come vedete qua ci sono i due in alto sulla spalla e qua invece non ci sono più quindi una curiosità che forse non sapevate ma che andava detta sicuramente proseguiamo ragazzi parlando invece di questo nuovo bundle lo vedete qua al mio fianco questa è una bellissima xbox one s da un terabyte una delle più potenti console forse la più potente in assoluto ragazzi da qualche ora è trapelata un'immagine incredibile che molti si stanno chiedendo è vera o è fake però ne parlano talmente tutti che è giusto che lo sappiate anche voi guardate un po sembrerebbe prossimo un bundle con xbox in edizione limitata come vedete il colore dell'xbox è un violaceo nero violaceo con tanto di controller dedicato che includerà una nuova skin leggendaria noi sappiamo che fino adesso l'unica skin esclusiva per i possessori di xbox è la skin ion quella tutta bianca che dava con il bundle 2000 vbucks qua ragazzi si parla solo di una skin e come vedete è una ricolorazione di vertex che diventa di color violaceo quindi io non so cosa dirvi ragazzi ci tenevo a mostrarvela perché l'immagine è interessante le persone che ne parlano sono i leakers mondiali e ovviamente mezza community su reddit a voi lardo a sentenza cercheremo di capirne meglio più avanti magari in questi giorni arriverà o meno la smentita da parte di microsoft c'è da dire comunque che se dovete acquistarvi un xbox porco giuda fateci un pensierino se volete una skin che probabilmente in pochissimi avranno ma andiamo avanti e parliamo del signor ninja eccolo qua con questa faccia molto molto sveglia e intelligente ragazzi il signor ninja è stato pescacciato ad utilizzare dei trucchi durante una partita non sono ovviamente non si sta parlando di cheating non si sta parlando di hacking si sta parlando solo di furbizia e di sfruttare un ennesimo bug presente su fortnite sapete a che cosa mi riferisco mi riferisco alle shadow bomb quindi le granate ombra guardate questo spezzone ragazzi sembrava che epic games avesse fixato e invece no come vedete siamo in una live del ninjone lui con il john si tira una granata sui piedi riesce a passare questa rampa di scale e come vedete mantenendo semplicemente il tempo giusto per il salto continua ad esserci il bug di non toccare terra come vedete l'effetto dell'invisibilità e quindi del doppio salto gli rimane praticamente finché rimane sul bordo di questa parete ed è una cosa assolutamente assurda perché pensate una roba del genere giocata nelle world cup devi avere anche culo che ti finisce la il match è direttamente sul bordo di una montagna però è una cosa assolutamente op ed assurda perché vorrebbe dire che sei praticamente invulnerabile in quanto non sei visto da nessuno un bug che speriamo venga fixato velocemente un bug che se avete modo di provare vi invito a provare per rendervi conto anche voi della potenza delle shadow chiudo molto velocemente ragazzi con alcune note della patch 9.10 ci sono delle migliorie molto molto serie per quanto riguarda ragazzi la possibilità del hold to take cosa vuol dire cioè ci tengono molto a sistemare questa cosa io ho un'arma ho una r bianco ok passo vicino a una r verde automaticamente io ho la possibilità di switchare l'arma senza doverla selezionare è una cosa che stanno provando a fare già dalla scorsa season non gli sta riuscendo benissimo perché non è facile ma sarebbe molto molto più comodo per noi giocatori avere questa possibilità appunto di ottenere subito l'arma più forte senza doverla selezionare si parla anche di problemi relativi alla disconnessione improvvisa che verrà fixata e ha delle grandi performance migliorate per tutte le console compresa la switch la playstation e ovviamente l'xbox beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 13 in live ciao 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 ciao